Benvenuto all'appuntamento settimanale con Weekly Plugin, la serie che ti permette di conoscere nuovi plugin da utilizzare con la tua piattaforma preferita e che ti aiuterà ad aggiungerne nuove funzionalità. Quest'oggi andiamo a scoprire WP Extreme, un plugin creato da una crew tutta italiana che permette di inserire all'interno del pannello di amministrazione un marketplace di plugin, marketplace dove potrai comprare ma anche vendere, come vedremo successivamente, i tuoi plugin. Per prima cosa andiamo a scoprire come si presenta questo WP Extreme. Dato che il plugin è sempre in beta, come ci viene anche ricordato dal pannello qua in alto, sarà necessario registrarsi al suo interno per poter scaricare questa versione. Una volta registrati, infatti come potete vedere il sito mi dà il benvenuto qua in alto, potremo scaricare il plugin andando ad utilizzare uno di questi due bottoni. Ovviamente io ho già scaricato WP Extreme e l'ho posizionato qua nel mio desktop, nella mia scrivania. Dato che quindi non sarà possibile installare questo plugin come siamo abituati a fare, ovvero andare sul plugin aggiungi nuovo ed utilizzare la funzionalità di ricerca, dovremo utilizzare invece la funzione carica, ovvero andare a cliccare sul link caricare e cercare all'interno del nostro file system il plugin appena scaricato. Premendo install adesso puoi notare quanto velocemente questo plugin si installa. Ovviamente ti devo ricordare che il mio sistema WordPress è installato su un server locale, quindi è anche normale questa velocità, ma attivando questo plugin potremo già beneficiare delle caratteristiche che questo plugin aggiunge a un WordPress standard. Come puoi vedere per prima cosa sono stati aggiunti degli abbellimenti grafici che permettono di muovere meglio comunque l'occhio all'interno delle varie opzioni che WordPress ci mette a disposizione. Ma questo comunque sono tutti effetti che potrai disattivare successivamente all'interno del pannello di controllo. Già, andiamo a vedere un attimo come funziona questo pannello di controllo. Come un qualsiasi altro suo simile racchiude al suo interno tutte le funzionalità che questo plugin mette a disposizione, ovvero potremo entrare all'interno della sezione plugin che ci permette di installare o rimuovere plugin presenti solo e soltanto all'interno del suo marketplace. Potremo andare a aggiungere o rimuovere gli abbellimenti grafici, aumentare il grado di sicurezza, utilizzare degli strumenti veramente molto utili che come vedremo a breve ci permetteranno di mettere il nostro sito WordPress all'interno del maintenance mode, ovvero congelare il nostro sito per apportare delle modifiche diciamo in casi molto particolari. Ci verrà fornita una nuova gestione degli utenti ed anche la possibilità di avere una newsletter integrata all'interno del proprio WordPress. Ultima ma non meno importante troviamo la possibilità di contattare direttamente gli sviluppatori di questo plugin andandoli a inviare appunto i problemi che abbiamo incontrato nell'utilizzo di questo plugin. Abbiamo quindi osservato brevemente come si presenta sia il progetto che la dashboard di questo WP Extreme, andiamo adesso invece a conoscere come si usa, ovvero come sia possibile iniziare ad installare i primi plugin. Eccoci qua, come sempre WP Extreme ci ricorda che non siamo logati, quindi tutto quello che dovrei fare è premere il bottone login e appunto inserire le tue credenziali, da questo momento in poi ovvero una volta logato sarà in grado di installare a tua scelta questi plugin. Ovviamente per i plugin a pagamento ti sarà richiesto i dati della tua carta di credito ma questo è soltanto una cosa che imparerai e vedrai con il tempo. Come ti dicevo precedentemente all'interno del marketplace non è possibile soltanto comprare o installare plugin. Se inizi ad utilizzare il framework che WP Extreme ti mette a disposizione sarai in grado anche tu di sviluppare dei plugin WordPress andando ad utilizzare delle funzioni e delle metodologie di programmazione che semplificheranno la tua vita. Apro una piccola parentesi, se sei interessato a questa caratteristica ti chiedo cortesemente di farmelo sapere. In questo modo io sarò in grado di mettere una determinata priorità valutando il tuo interesse e quello degli altri lettori per sviluppare appunto questo tipo di corso. Quindi il discorso plugin è stato abbastanza veloce ed anche indolore. Andiamo adesso a vedere come si usa la parte relativa all'abbellimento grafico della nostra dashboard. Cliccando sulla voce appearance presente sulla nostra dashboard eccoci all'interno delle varie opzioni. Qua troverai due tab. Uno che ti permetterà di andare a modificare le impostazioni generali degli abbellimenti aggiunti da WP Extreme come ad esempio togliere anche il bottone di fullscreen il miglioramento dei messaggi e insomma fare tutto quello di cui hai bisogno e che non ti piace nell'abbellimento grafico di WP Extreme a livello generale. Successivamente potrai anche personalizzare singolarmente delle opzioni che sono presenti all'interno dell'editor dei tuoi articoli. Potrai infatti andare a, come abbiamo appena visto, attivare o disattivare queste opzioni con un semplice click. Anche modificare la grafica di questo plugin, la grafica del proprio pannello di amministrazione è risultato molto facile. Andiamo ora a vedere qualcosa di più interessante analizzando che cosa possiamo fare all'interno della security. Le opzioni che al momento sono presenti all'interno di questa sezione sono delle opzioni che permettono di almeno rendere più difficile la vita a quegli utenti che cercano di entrare all'interno del nostro sito web. Ovvero ci permetteranno di nascondere delle informazioni che di default WordPress inserisce all'interno del nostro head e che permetterà a questi tipi di utenti di scoprire delle informazioni rilevanti sulla nostra installazione WordPress. All'interno di queste opzioni sarai tu a dover decidere cosa nascondere e cosa invece mostrare. E sinceramente non mi sento di dirti che cosa attivare e che cosa no perché io non sono un grande della sicurezza. Lascio a te quindi la decisione di scoprire quali tra queste opzioni sarà meglio nascondere. Anche se nel futuro ovvero nella release pubblica di questo plugin vedremo anche altri miglioramenti all'interno della sicurezza come esempio anche la possibilità di nascondere completamente il nostro amministratore e quindi aumentare la sicurezza del nostro WordPress le opzioni che abbiamo appena visto sono molto generali. Quindi spostiamo adesso la nostra attenzione su un tab ovvero su un pannello molto interessante il pannello degli strumenti. All'interno di questo pannello sarà possibile attivare la funzionalità di mantenimento ovvero ti è mai capitato di dover applicare delle modifiche al tuo tema ma non volevi che i tuoi lettori che i tuoi visitatori potessero vedere te che lavori proprio su esso. Questo è una capacità di WordPress ovvero la possibilità di entrare nella funzionalità di mantenimento è una delle funzionalità molto interessanti ma difficili da gestire. Grazie a WP Extreme ti verrà fornito un semplice pannello di amministrazione dove te potrai semplicemente decidere quando iniziare quindi scegliendo giorno e addirittura l'ora e il minuto di inizio della fase di mantenimento ed anche quando terminarla. Nelle opzioni più in basso troverai anche dei campi che ti permetteranno di andare a specificare ad esempio quale template utilizzare durante il sistema di mantenimento, che tipi di utenti oppure soltanto quale utente specificandone l'username potrà accedere all'interno di WordPress e quindi applicare le modifiche. Potrai anche ad esempio disattivare completamente il login WordPress e permettere soltanto ad un determinato indirizzo IP l'accesso a WordPress. Oltre a questo ti sarà possibile anche inserire delle piccole frasi che ti ricorderanno ad esempio che il tuo WordPress è al momento nella fase di mantenimento. Abbiamo quindi visto quali sono gli strumenti messi a nostra disposizione non ci resta che andare a vedere la nuova gestione degli utenti che WP Xtreme ci mette a disposizione. Se permetti la registrazione degli utenti all'interno di WordPress sarai molto felice di sapere che grazie a questo plugin sarai in grado per prima cosa di aggiungere un gran numero di extra fields, ovvero campi aggiuntivi all'interno dei quali i tuoi utenti potranno aggiungere le proprie informazioni. Da esempio qua possiamo vedere la presenza di due campi testo che conterranno l'indirizzo e la città dell'utente ed un campo numerico che invece conterrà lo zip code, ovvero il nostro italiano TAP. Ma non finisce qua perché come puoi vedere da questo drop down sarà possibile creare veramente un gran numero di campi ed anche andare a costruire delle vere e proprie sezioni. Quindi già questa cosa è una cosa molto utile soprattutto se poi possiamo riadattare l'ordine dei nostri campi semplicemente con un drag and drop. Ma non finisce qua perché ci sono stati messi a disposizione due shortcode, uno per la creazione e modifica per le pagine di login di WordPress ed un'altra che permetterà di creare delle pagine di registrazione completamente personalizzate. Questa è già una bella novità se pensiamo che in fin dei conti tutti i blog WordPress tendenzialmente hanno la stessa pagina di registrazione e la stessa pagina di login. quindi abbiamo visto quante opzioni anche sotto l'aspetto degli utenti ci vengono fornite da WP Extreme è giunto il momento di andare a scoprire l'ultima e forse anche la più interessante caratteristica ovvero la possibilità di far registrare gli utenti alla nostra newsletter e di mandare delle email direttamente dal nostro pannello di amministrazione. Come puoi vedere in questo specifico caso le opzioni che sono presenti all'interno di email escono completamente dal pannello di amministrazione di WP Extreme. Questo semplicemente perché è una caratteristica veramente molto importante come abbiamo visto ad esempio nello scorso articolo ovvero avere una newsletter all'interno del proprio WordPress ti permette di stringere relazioni con i tuoi visitatori, con i tuoi lettori e WP Extreme ha concepito questa peculiarità ed ha deciso di inserire direttamente all'interno del pannello di amministrazione un posto dove sia possibile creare ed inviare ai propri iscritti le nostre newsletter. Per creare quindi un email tutto quello che dovrei fare è premere il bottone aggiungi nuovo e andare ad utilizzare semplicemente il tuo editor di testo preferito perché come puoi vedere l'editor che verrà utilizzato per creare la tua email, la tua newsletter è lo stesso editor di testo che utilizzi tutti i giorni quando crei un articolo WordPress. oltre a questo ci saranno delle impostazioni da dover configurare ovvero impostazioni che ti permetteranno di inserire le informazioni sul mittente della newsletter, chi vogliamo inserire in copia ed avremo anche la possibilità di inviare delle email di test. Tutto quello che dovrei fare è inserire all'interno di questo campo l'email al quale vuoi inviare il test della tua newsletter e se tutto funziona correttamente potrai semplicemente premere il pulsante pubblico in alto per inviare la newsletter a tutti i tuoi iscritti. Benissimo, abbiamo quindi visto alcune delle caratteristiche di questo WP Extreme non ci resta che andarne a conoscere alcune di ancora più interessanti. In questo caso non ho niente da farti vedere, infatti rimarremo su questa schermata blu perché ti voglio ricordare che forse oltre ad avere accesso allo store di WP Extreme ovvero al marketplace di questo plugin, la cosa che ritengo tra le più interessanti è il fatto che utilizzando WP Extreme potrai accedere ad un framework che ti permette di creare plugin ovviamente questo framework dovrà essere appreso, dovrai imparare ad utilizzarlo ma è sicuramente un modo che ti permetterà per prima cosa di velocizzare il tuo sviluppo di plugin e come secondo aspetto ti permetterà di pubblicare il tuo plugin all'interno del loro marketplace. Benissimo, abbiamo terminato anche questo episodio, anche questa lezione da Andrea Barghigiani quindi è tutto come sempre io ti auguro una buona formazione, un buon lavoro con WordPress e ti aspetto per la prossima puntata. Grazie a tutti! Grazie a tutti!